Bella a tutti cari amici e ben ritornati a questo nuovissimo video guida io sono Eiffel Emanu amici miei eccoci qui con una nuovissima sfida della settimana numero 6 che questa volta ci richiederà di completare delle taglie ragazzi ovviamente sappiamo tutti cosa sono delle taglie ovviamente per chi ha giocato anche nella stagione 5 vi basterà soltanto accettare una taglia e ovviamente poi eliminare il giocatore però ancora non so se bisogna soltanto avviare la taglia poi vabbè ora lo testeremo in diretta comunque ragazzi per avviare le taglie ovviamente lo potete fare o degli NPC scusate che però non tutti hanno la possibilità di avviare una taglia oppure ragazzi vi potete recare ai tabelloni questi qua come potete vedere avviando una taglia vi indicherà un player da eliminare e ovviamente poi lo eliminerete ovviamente otterrete il vostro denaro se vogliamo chiamarlo così comunque ragazzi un luogo dove spawna sempre questo cartellone lo potete trovare qui come potete vedere accanto a questi due alberi sopra anzi a nord di Sepi da Grifoglio in questo piccolo sentiero lo potete trovare tranquillamente vicino a questa bellissima panchina rilassante quindi ci avviciniamo e avviamo la nostra taglia ragazzi non c'è bisogno che vi spiega dove e come eliminare un avversario credo che lo sappiate anche meglio di me comunque ragazzi io vi ho indicato il tabellone per accettare tranquillamente ovviamente tranquillamente nel vero senso della parola senza che nessuno vi rompa le scatole per accettare la taglia spero che il video vi sia stato utile è stato così un bel pollicione in su iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti noi ci becchiamo al prossimo video dal vostro mano di quartiere è tutto bella ah ragazzi ce l'ha pure contata perché ci hanno fottuto la kill ottimo l'importante è averla completata ciao